I finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno procedendo all'esecuzione di un sequestro di beni del valore di oltre 4 milioni di euro nei confronti degli ex vertici della Tirreno Ambiente Spa. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Messina Simona Finocchiaro. Riguarda ipotesi di reato di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e peculato. Le indagini hanno preso le mosse da una verifica fiscale eseguita dal nucleo di polizia economico finanziario della Guardia di Finanza di Messina nei confronti della Società per Azioni a partecipazione pubblica con Capitale Misto che è incaricata della gestione della discarica di Mazzara a Sant'Andrea. Al termine degli accertamenti è stato rilevato che nel periodo 2011-2013 le casse della società sono state svuotate mediante un complesso sistema di false fatturazioni e che parte del denaro illecitamente fuoriuscito e rientrato nelle tasche degli ex vertici dell'azienda attraverso società in cui gli stessi rivestivano importanti cariche sociali. Più particolare, grazie all'attività di verifica fiscale, è stato riscontrato che la società ha fatto ricorso sistematicamente all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture rivolgendosi o ad aziende che facevano parte della componente privata della società o ad imprese comunque compiacenti le quali hanno provveduto ad emettere fatture per operazioni inesistenti per oltre 3 milioni di euro. Tra le operazioni falsamente documentate sono stati rilevati servizi di supervisione e di controllo della gestione o attività di consulenza che non sono risultati comprovati da nessun documento che attesti le effettuazioni dell'incarico. Con riferimento poi ad alcuni servizi di fornitura della discarica è stato accertato l'affidamento diretto da parte della società in violazione delle norme sull'evidenza pubblica e con l'applicazione di percentuali di ricarico sulla fornitura di materiali e la prestazione di servizi fuori da ogni logica commerciale. Questa situazione ha consentito da un lato alla Tirona Ambiente di abbattere i costi di gestione attraverso la contabilizzazione nelle dichiarazioni IVA e imposte dirette di queste fatture e dall'altro alle società emittenti di accaparrare illecitamente denaro pubblico. Al termine delle indagini sono state denunciate 8 persone, tra le quali 2 rappresentanti legali della Tirona Ambiente che si sono succeduti nel tempo per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e poi 6 rappresentanti legali delle società incaricate di svolgere le prestazioni per emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Sono state contestate specifiche ipotesi di peculato per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro nei confronti di tre soggetti che hanno ricoperto contemporaneamente la carica di membri del CDA della società a partecipazione pubblica da cui hanno distratto somme di denaro, rappresentanti legali delle società che hanno emesso le fatture false attraverso le quali sono state distratte le somme.